Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video Allora in questo nuovo video torniamo a parlare ovviamente di Apple Come avrete saputo la conferenza che doveva tenersi a marzo ovviamente Causa coronavirus è stata annullata E non sappiamo ovviamente quando la Apple riproporrà la sua conferenza Ma vi terremo aggiornati Comunque volevo tornare a parlarvi di iOS 14 Perché ci sono 6 novità in arrivo Perché grazie all'interno del codice di iOS 14 trapelato in queste ore Sono emerse moltissime novità in arrivo Ecco infatti quali feature invaderanno i nostri iPhone e i nostri iPad a settembre Perché un leak di iOS 14 rivela in anteprima tutte le novità in arrivo Con la prossima versione del sistema operativo di Apple Ovviamente parliamo di realtà aumentata Vista a elenco delle app di una nuova versione di Apple Remote e di nuove feature per l'app messaggi Ma partiamo della vista a elenco Di cosa si tratta? Con iOS 14 arriva un nuovo modo di visualizzare e organizzare le applicazioni installate Ovvero sotto forma di elenco Un assaggio di questa funzionalità ovviamente ce l'abbiamo da anni davanti ai nostri occhi Ovvero su Apple Watch Infatti a quanto si sa la lista seguirà l'ordine alfanumerico Ma gli utenti avranno la possibilità di filtrare al volo le app più usate Le ultime installate oppure quelle con notifiche ancora non lette Poi c'è il wallpaper pack Apple ha intenzione di supportare i wallpaper pack di terze parti Ovvero i pacchetti di sfondi per il telefono Direttamente nelle preferenze di iOS 14 Per aiutare gli utenti a destreggersi tra la moltitudine di sfondi Verranno introdotte infatti nuove categorie di sfondi Poi ci saranno delle novità su HomeKit Infatti anche HomeKit il protocollo di domotica di Apple diventerà sempre più smart e autonomo Tra le novità in arrivo con iOS 14 ovviamente ci sono la night shift per le luci Ovvero le lampadine smart vireranno automaticamente alle tonalità più calde durante la giornata Per abituare gli occhi alla penombra notturna e a cui adiuvare il sonno Il riconoscimento volti HomeKit Secure Video sarà capace di riconoscere oggetti e persone, animali e veicoli E attivare determinate azioni a verificarsi di sofisticate condizioni E poi Apple TV Finalmente sarà possibile impostare una risorsa audio permanente sul set Top Box con la mela Cablato o con AirPlay 2 non farà differenza A riavvio Apple TV ricorderà le preferenze e connetterà le casse desiderate automaticamente Una feature perfetta infatti per l'HomePod 2 low cost E poi ovviamente ci sarà la nuova realtà aumentata che ha il nome in codice GOBI E la nuova versione della realtà aumentata di iPhone e iPad si attiverà automaticamente Dopo la scansione di speciali codici QR Che creeranno nuove forme di intrattenimento e informazione all'interno dei negozi Per esempio gli utenti potrebbero sollevare il loro iPhone in un Apple Store e visualizzare informazioni e prezzi dei prodotti in esposizione Comparare feature e molto altro Poi abbiamo anche i messaggi perché la prossima versione di messaggi avrà un sistema di dimensioni in stile Whatsapp Telegram Che permetterà infatti di taggare gli utenti con l'uso della chiocciola seguita dal nome Tra l'altro è in fase di test la cancellazione dei messaggi inviati Al loro posto infatti ci sarà una dicitura che avvisa il destinatario dell'avvenuta rimozione Non è chiaro tuttavia però se saranno implementati i limiti Ovvero potete cancellare un messaggio fino a 8 minuti dall'invio Inoltre è allo studio un sistema di indicatori di lettura per le chat di gruppo Simili a quelli implementati nella chat one to one E poi ovviamente Apple Remote Con iOS 14 infatti debutterà una nuova versione di Apple Remote L'app per controllare Apple TV da remoto Sfortunatamente però al momento non sono noti ultimi dettagli a riguardo Comunque queste sono le principali novità che sono emesse per ora sul nuovo sistema operativo Ovvero iOS 14 Comunque se vi è piaciuto questo nuovo video naturalmente ragazzi lasciate un like Naturalmente continuate a mandare il vostro supporto Continuando a seguirci iscrivendovi al canale A presto per un nuovo video Ciao